Ben ritrovati in nuovo appuntamento con l'informazione di Spazio Notizia. In apertura alla cronaca parliamo dell'arresto avvenuto a Catania di un cittadino di nazionalità cinese accusato di tentato omicidio in concorso avvenuto durante un'aggressione, una lite, in un locale a Prato. La Polizia di Stato ha arrestato un 39enne di nazionalità cinese destinatario di un provvedimento di fermo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, ritenuto gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio in concorso. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il 6 luglio l'uomo insieme ad altre cinque persone, tutti i cittadini cinesi, avrebbe violentemente aggredito all'interno di un locale di Prato un connazionale, il quale è stato colpito ripetutamente in varie parti del corpo, prima con una bottiglia di vetro e poi con un'arma da taglio, oltre che con calci e pugni. La vittima ha subito lesioni gravissime che hanno reso necessario il suo ricovero urgente in ospedale, la conseguente sottoposizione a un delicato intervento chirurgico. La visione delle telecamere del sistema di videosorveglianza dell'esercizio dove è avvenuta l'aggressione ha permesso agli investigatori toscani di identificare gli autori del grave delitto che potrebbe essere maturato nell'ambito di una faida tra opposte fazioni che si contendono nel mercato delle grucce nella comunità cinese della città di Prato. Dagli immediati approfondimenti si è fatta strada l'ipotesi che il 39enne, subito dopo la commissione del reato, si fosse recato in Sicilia, precisamente a Catania. Pertanto sono state prontamente avviate le attività di ricerca condotte dal personale della locale squadra mobile in stretto accordo con i colleghi della questura di Prato. Quest'azione ha consentito di restringere il cerchio attorno al fuggitivo e sulla base degli elementi raccolti è stato possibile isolare tre luoghi dove si riteneva che l'uomo potesse essersi rifugiato. Un'abitazione, un grande magazzino ad uso commerciale e una struttura ricettiva, siti tutti nel territorio dell'Interlandetneo. Le successive attività di ricerca hanno effettivamente permesso di individuare l'uomo all'interno di una struttura ricettiva dove si trovava in compagnia di una donna. L'uomo era disarmato e non ha posto resistenza agli agenti che lo hanno sottoposto a fermo e successivamente associato alla casa circondariale di Catania, Piazza Lanza. Voltiamo adesso pagina, parliamo della riapertura dopo tanti anni di attesa della Galleria della 18, sita in corrispondenza di Letoianni. Alla riapertura erano presenti l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò, il dirigente della struttura commissariale Salvatore Lizio e il direttore generale del CAS Franco Fazio. Nel 2015, quando è successa questa catastrofe, nove anni di lavoro intenso, nel 2019 il governo musulmese ha siglato una convenzione con l'autorità dell'ufficio del commissario del distesso ideologico. Oggi abbiamo un nuovo soggetto attuatore che è il direttore Lizio che ha lavorato in comunione di intenti naturalmente con consorzi autostrade. Abbiamo raggiunto un grande risultato, era prevista l'apertura per il 20 luglio ma siamo riusciti, visto il traffico veicolare che sta investendo la Sicilia in questi giorni, visto il periodo estivo, visto il numero dei turisti crescenti, abbiamo potuto anticipare di otto giorni. Quindi un grande risultato per l'amministrazione, per il consorzio autostrade, per il governo preseduto dal presidente Schifani, che è anche il commissario del distesso ideologico, per il soggetto attuatore, ma soprattutto per i tanti soggetti e gli automobilisti che attraverseranno questo tratto autostradale e non saranno costretti ad avere un'unica carreggiata con due sensi di marcia. Siamo qui all'interno della galleria artificiale, la galleria Paramassi, che è stato un ulteriore intervento che è stato aperto già nel marzo del 2023. Oggi quindi apriremo la carreggiata lato mare e avremo la possibilità quindi di poter utilizzare a pieno questa infrastruttura fondamentale della regione. Restiamo in provincia di Messina, ci spostiamo a Taormina dove hanno preso il via ieri le serate del lusso in contemporanea al Taormina Film Fest. Sergio De Luca è imprenditore dell'industria dell'ospitalità. Quali sono i nuovi trend per Taormina? Allora, Taormina sicuramente ha un mercato del lusso che sta crescendo tantissimo, quindi sicuramente puntare tanto su questo mercato e organizzare qualcosa di specifico, puntando soprattutto sul siciliano ma anche sull'internazionale. Questa sera una serata messicana, quali sono i temi che ha proposto? Allora, questa sera abbiamo fatto messicana qui al Diodoro, sia per i clienti albergo sia per gli esterni. Fra due settimane faremo street food siciliano. Il 9 di agosto faremo anche serata Aperol, perché il nostro gruppo ha fatto quest'anno una partnership tra Aperol d'Italia e tutto il gruppo guys, quindi sia Diodoro che Caparello. Il lusso quindi è di casa Taormina? Sì, sicuramente sì, da un paio di anni a questa parte e quest'anno secondo me ancora di più. Felice Munafo con lo staff del Diodoro. Ecco, una serata messicana, quali sono i gusti che ha proposto ai clienti provenienti dalle più disparate località internazionali? Ma cerchiamo di fare, intanto di farli mangiare bene, che è una cosa essenziale. E poi di aggiustare con un po' di chili, un po' di guacamole, dei piatti classici messicani, come quando vengono qua in Sicilia e chiedono la norma, chiedono le state a beccafigo. Cerchiamo di avvicinarci a quei piatti classici messicani che si fanno nel mondo. Parliamo adesso di turismo culturale. Palermo Culture Pass è il ticket valido sette giorni dalla prima convalida per visitare quattro dei siti culturali più importanti della città di Palermo. Nasce Palermo Culture Pass, un biglietto unico per visitare quattro tra i luoghi più conosciuti di Palermo. Il Museo Salinas, lo Steri, l'Orto Botanico e Palazzo Riso. Il costo del ticket è di 23,20 euro, con un risparmio del 20% rispetto all'acquisto dei singoli tagliandi. Arte, natura, cultura e storia, tutti in un unico tagliando. Un progetto atteso da tempo, soprattutto dagli operatori culturali e turistici, dice l'assessore regionale ai beni culturali e all'identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato. Esempio di sinergia tra istituzioni, università e regione siciliana e un privato come Cap Culture, che ne gestisce i servizi. Siamo convinti che questa iniziativa possa rivelarsi un ottimo veicolo di promozione del nostro patrimonio culturale, con i siti più visitati pronti a trainare anche quelli meno conosciuti, creando così un virtuoso effetto domino. Un unico biglietto, quindi, con il quale sarà possibile intraprendere un percorso storico, naturalistico e artistico che parte dalle origini della città, con i reperti archeologici del Salinas, passa dalle carceri dell'Osteri alla scoperta del periodo dell'Inquisizione Spagnola, attraverso il polmone verde dell'Orto Botanico e si conclude tra le sale del Museo d'Arte Moderna e Contemporanea Riso. Palermo Culture Pass sarà acquistabile sul sito di Cap Culture oppure direttamente in miglietteria e avrà una durata di sette giorni dal primo accesso e consentirà una sola visita in ciascun sito. E a proposito di turismo culturale, un grande risultato è stato raggiunto dalla città di Agrigento che ha superato il milione di turisti nel 2023. Agrigento, capitale della cultura 2024, ha superato nel 2023 il milione di presenze turistiche. Sulla scia di questo successo, nel corso della presentazione del progetto Destinazione Palermo al Terminal Crociere, l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato ha annunciato la Borsa dei beni culturali che si terrà nella città dei Templi i prossimi 26, 27, 28 e 29 settembre. Quattro giorni dedicati alla divulgazione e all'approfondimento dei temi legati al turismo culturale, un'occasione unica di incontro per addetti ai lavori, operatori turistici, appassionati, visitatori e mondo studentesco per promuovere quell'immenso parco archeologico a cielo aperto rappresentato dalla Sicilia. L'iniziativa, che sarà presentata in seguito nel dettaglio, ripropone in parte le linee organizzative della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Pestum, che fra l'altro offre opportunità di business tra la domanda e l'offerta del turismo culturale. Parliamo adesso di sanità. Secondo gli ultimi dati raccolti, il 80% degli italiani pensa che il Sistema Sanitario Nazionale regga soltanto per merito dei medici. Secondo il parere di 8 italiani su 10 è merito dei medici se il servizio sanitario ha tenuto negli ultimi difficili anni. Il 91,7% inoltre è molto orgoglioso del sistema sanitario universalistico italiano, anche se l'83,6% si aspettava investimenti molto più cospicui in sanità dopo l'esperienza traumatica della pandemia. L'investimento nel servizio sanitario è inoltre giudicato prioritario dal 65,6% degli italiani rispetto a scuola, infrastrutture per la mobilità e previdenza. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel rapporto Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Censis, denominato il necessario cambio di paradigma nel servizio sanitario stop all'aziendalizzazione e ritorno del primato della salute, presentato a Roma in occasione del convegno dall'economia al primato della persona. L'indagine rileva la sofferenza del servizio sanitario nazionale. Il 44,5% degli italiani ha sperimentato situazioni di sovraffollamento in reparti ospedalieri o strutture sanitarie. La soluzione, secondo il 92,5%, è procedere all'assunzione di medici e infermieri nel servizio sanitario. D'altro canto, oltre l'84% degli italiani ha fiducia nei medici del servizio sanitario stesso. Per l'85% dei partecipanti, inoltre, prima di assumere medici da altri paesi, sarebbe opportuno trattenere quelli italiani evitando la loro fuga all'estero. Un modo per farlo per l'87,2% è quello di migliorare le loro condizioni di lavoro e retribuzioni. La stabilizzazione e contrattuale è un ulteriore mezzo, dato che l'84,5% degli italiani è convinto che avere troppi medici con contratti temporanei e intermittenti indebolisce la sanità. Fondamentale è anche garantire ai medici l'autonomia. Il 78,9% degli italiani è convinto che a decidere su cure e farmaci debba essere sempre solo il medico, senza sottostare a vincoli di budget finanziari. Secondo l'indagine, inoltre, negli ultimi 10 anni il lavoro precario del sistema sanitario è quasi raddoppiato. Le unità di lavoro annue con contratti di lavoro a tempo determinato o interinali sono passate da 31.564 del 2012 a 57.522, con un incremento dell'82,2%. Restiamo in ambito sanitario e parliamo dell'ultima novità che riguarda l'AIFA, la banca dati dei farmaci si dota, si rinnova con una nuova app che riguarda ovviamente i servizi a disposizione dei cittadini che adesso saranno fruibili a portata di un click. La banca dati dei farmaci dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, si rinnova per essere sempre più vicina ai cittadini anche tramite un'app. Bastano infatti pochi click per essere aggiornati su caratteristiche, indicazioni terapeutiche, controindicazioni, interazioni con altri farmaci, rimborsabilità, eventuali effetti dopanti per chi pratica sport agonistico. E con l'app si può creare anche un armadietto personale dei farmaci che ricorda quando assumerli perché la mancata aderenza alle terapie nuoce in primis alla salute ma anche alla nostra economia, visto che fa lievitare di 10 miliardi i costi sociali e sanitari. Ma l'app fa anche altro. In via alert, quando un farmaco viene sospeso o ritirato dal commercio, aggiorna costantemente i medicinali per i quali si registrano carenze, segnala i farmaci con effetti dopanti per chi fa sport a livello agonistico. Una funzione che verrà arricchita quest'ultima specificando anche per quali tipi di sport un medicinale è considerato dopante e se in gara o in allenamento. Un'applicazione semplice per risolvere un grande problema, quello della mancata aderenza alle terapie da parte soprattutto dei pazienti cronici e anziani in politerapia, che interrompono o assumono con discontinuità i farmaci nel 50% dei casi quando si arriva a doverlo fare per quattro volte nel corso di una giornata, sottolinea il presidente dell'AIFA. Un problema continua per la salute dei pazienti ma anche per i conti pubblici. Negli USA gli studi stimano in 100 miliardi di dollari l'anno i costi sanitari e sociali indotti dalla mancata aderenza alle terapie. Fatte le debite e proporzioni, conclude, si potrebbe stimare in 10 miliardi l'onere per l'Italia. Ma le funzioni dell'app non finiscono qui. Quando è certificata la carenza di un farmaco viene immediatamente notificata se questo è in uno dei nostri armadietti o tra i preferiti. Un link al sito di AIFA consente poi di sapere quando è prevista l'accessazione della carenza e se ci sono in alternativa, come nella stragrande maggioranza dei casi, altri prodotti equivalenti o con la stessa indicazione terapeutica. In ogni caso viene raccomandato di rivolgersi sempre al medico prima di cambiare una terapia. E adesso voltiamo pagina, parliamo di sport e di calcio nello specifico, prosegue la preparazione del Palermo. Queste le parole in conferenza stampa del centrocampista Filippo Ranocchia. Gli allenatori e le sue richieste sono differenti. Il mister la prima cosa che ha chiesto in questo ritiro è soprattutto a livello caratteriale, quindi ha chiesto disponibilità, entusiasmo e propensione a fare quello che ci chiede. Poi le richieste tattiche, tecniche che chiederà io come tutti gli altri saremo pronti ad eseguirle in campo. Chiaramente l'esordio sicuramente è stato molto positivo, ma lavoro tutti i giorni perché non sia un evento straordinario, nel senso cerco di allenarmi affinché la partita sia sempre come gli esordi per tutto il campionato, non solo per cinque partite. Sapevo che Checco voleva cambiare il numero perché aveva portato due anni e voleva cambiarlo, allora a me è un numero che è sempre piaciuto e allora Biandici me l'ha lasciata molto gentilmente, io ho deciso di prenderla perché è un numero che mi piace e che ho sempre voluto indossare e indossarlo con questa maglia sarà ancora più speciale. Il primo ricordo che ho del 10 della maglia del Perma è sicuramente piccolo, ma io l'ho presa perché è un numero che mi piace e che voglio rendere mio, senza mancare di rispetto a nessuno e senza fare nessun paragone. È un numero sicuramente particolare, però a fine non è tanto il numero che conta, ma è quello che si fa in campo. Era questa l'ultima notizia, come di consueto concludiamo questa nostra edizione di Spazio Notizia con la rubrica 100 secondi a cura di Giacomo Cagnes. Grazie per averci seguito. Poi ci chiediamo perché altre regioni chiedono l'autonomia differenziata, la possibilità di gestirsi e di lavorare per il proprio territorio senza dover passare per i meandri di un'ulteriore burocrazia nazionale, figlia di concessioni che spesso la politica fa per simpatie di convenienza. Fotografiamo il caso che ci fa sorridere al limite dell'assurdo. In Pompamagna ieri si è comunicato ai siciliani che ancora si ostinano a muoversi in auto per le fantomatiche strade dell'isola che, pensate, dopo ben nove anni si è riaperto un tratto autostradale sulla A18 che collega praticamente la Sicilia orientale al resto d'Italia passando per l'imbuto dello stretto di Messina. Tempi biblici per mettere d'accordo tutti. 16 milioni di euro per restituire come si dice meglio tardi che mai un tratto che lo stesso presidente della regione Pro Tempo Renato Schifani afferma e comunica ai cronisti un tratto di autostrada di fondamentale importanza che si inserisce tra quelli a più intenso traffico della viabilità regionale aggiungendo poi il carico soprattutto in questo periodo estivo insomma l'urgenza per poter tornare alla normalità in Sicilia dura nove anni mentre al nord, esempio, Genova, un ponte crollato viene ricostruito in un anno ecco lo specchio della politica siciliana quella dei piccoli passi e della paura evidente di sbagliare sempre in ostaggio di qualcuno pronto ideologicamente a colpirti non si spiegano altrimenti infatti i tempi assurdi per riaprire un tratto bloccato a causa di una frana nel 2015 non si spiegano non si spiegano altrimenti infatti i tempi assurdi per riaprire un tratto bloccato